Per noi l'innovazione è voglia di cambiamento e di voglia di miglioramento. Questo vuol dire implementare sempre processi nuovi, cercare di inventare nuovi prodotti per cercare di migliorare la proposta della nostra azienda e del nostro business. Anche inventare, ma anche prendere spunto da altri settori per poterli portare nel nostro e cercare di cambiare quello che è il nostro mondo, il nostro mercato. Crediamo in questa impresa proprio perché crediamo che l'innovazione possa essere il motore del successo per noi e per tutta la filiera. I partner principali commerciali che abbiamo sono proprio i rivenditori edili, quindi incentivare i rivenditori edili a innovarsi vuol dire creare un valore aggiunto anche per la nostra azienda, obbligare poi anche noi a innovarsi per cercare di innovare quello che è il mercato dell'edilizio.